Abbiamo fatto un'uscita un po' tutti in compagnia a raccogliere quello che si trova per le strade Esatto, è la terza edizione diciamo che ogni mese ci ritroviamo Correggono da dietro Da dietro correggono giustamente La quarta edizione ci ritroviamo qui una volta al mese, un sabato mattina per due o tre ore Ci autoinvitiamo tutti su Facebook perché siamo tutti volontari cittadini Che si sono accorti che non è proprio bello vedere tutta la sporcizia in giro Sporcizia parliamo quella che la gente butta dal finestrino Quindi la carta, la bottiglietta di plastica Ed è tutta quella sporcizia che i turisti notano appena vengono nelle nostre città Noi parliamo di Fossombrone Ma se voi andando in giro guardate quando entrate nei paesi o nelle città la troverete ovunque Quindi ci siamo organizzati, pubblichiamo su Facebook E abbiamo deciso di iniziare a raccogliere noi prima di aspettare che lo faccia un ente comunale Un ente pubblico, chiunque altro Tanto anche noi possiamo aiutare e tutti siamo capaci di raccogliere immondizia Allora Andrea siete partiti in pochi, mi sembra in 5 Poi pian piano oggi siete 21 Sì, ci auguriamo di essere almeno 30 la prossima volta Poi grazie a voi sicuramente sforeremo magari 35, 40, chissà Chissà, invitiamo poi sempre più gente a venire, i giovani sono parecchi Sicuramente sì, sicuramente sì, chiaramente giovani non sotto i 18 anni Perché poi dopo lungo le strade è anche un po' pericoloso Non andare così a cani sciolti Però sì dai, sta avendo un ottimo riscontro da parte di tutta la popolazione Ci auguriamo che nell'arco di 2-3 mesi di creare un bel gruppo Che ci possa permettere anche di estendere l'iniziativa anche ad altre cose Perché poi quando c'è la materia prima che ci sono le persone Si riesce un attimo a condividere le problematiche e a darsi da fare un po' su tutto Bene Giorgio, io ho visto che comunque voi non è che avete fatto una raccolta indifferenziata Avete diviso nella raccolta stessa la plastica dall'indifferenziata, il metallo, il vetro? Sì, sì, praticamente abbiamo provato ad organizzarci Un po' di persone raccolgono solo la plastica, un po' di persone solo il vetro È più difficile con la carta e altro perché troviamo di tutto Lo stesso pacchetto di sigarette ha l'involucro di plastica all'interno in carta Quindi purtroppo quello va nell'indifferenziata Ma per quanto possiamo differenziamo E senti, il Comune ha partecipato in qualche modo? Il Comune ha partecipato offrendoci buste di plastica, i bastoni per raccogliere Sì, in qualche modo ha partecipato Verrà a raccogliere tutta l'immunizia in un punto qui vicino al bocciodromo Hanno partecipato anche molti volontari e attività del posto che hanno offerto buste, guanti, tutto quello che potevano offrire Abbiamo costruito un prototipo di carrello perché chi va a piedi ovviamente al posto di tenere il sacco in mano Lo appoggia su un carrello con due ruote così è un po' facilitato Oggi abbiamo provato il prototipo, dicono che va bene quindi partiremo con la produzione di serie E una cosa, i numeri? Le quantità? Dunque adesso tu li hai Ho visto vetro 20 kg, plastica 35,5, indifferenziata 118, metalli 5,4 Per un totale di circa 180 kg Quindi è andata bene? È andata bene, abbiamo battuto il record dell'ultima volta che ne avevamo raccolti 120 Purtroppo pur raccogliendo una volta al mese l'immunizia sembra che aumenta Ma secondo me siamo più bravi noi che la troviamo sempre in più posti Non è che loro fanno i birichini e dicono va ci sono loro, allora buttiamo No, no, tanto il messaggio che deve passare con questa raccolta è che per avere un posto pulito o non si sporca o si pulisce E quindi speriamo che la gente impari a non sporcare altrimenti noi dovremo pulire sempre più Senti Andrea è un invito a quello che vogliamo fare anche agli altri comuni a prendere atto di questa cosa e partecipare a questo evento come quello che fate voi Ma sinceramente a questa cosa non l'abbiamo pensato Adesso ci concentriamo sul nostro e poi saranno gli altri che se vorranno i nostri nomi li avete dati Ci chiameranno, ci cercheranno e poi daremo le nostre direttive come ci siamo organizzati Poi ognuno fa un po' come crede, l'importante è la volontà Senti il gruppo Facebook si chiama? Fossombrone è la città invisibile, il primo, sta nascendo un altro un po' più dentro la problematica che poi comunicheremo Va bene, allora Fossombrone è la città pulita? Ah adesso andiamo a fare l'aperitivo Tutti insieme Tutti insieme, perfetto L'obiettivo alla fine è quello, è che adesso andiamo tutti a fare l'aperitivo Allora la scusa dell'immondizia per andare a fare l'aperitivo E certo, a qualcosa alle mogli bisogna raccontargli Perfetto, grazie mille, grazie a tutti Grazie a voi